E' quasi come se non riconoscessi più mio figlio. Non era ciò che mi aspettavo quando sono partita da Los Angeles. Io non vorrei tutta quella gente in casa mia. Perché Alex non può essere assimile a te? Sta facendo ciò che deve, credo. Sento di doverti delle scuse. No, è Alex doversi scusare. Mollarmi all'aeroporto, ignorarmi mentre sono qui. E' tutta colpa sua. Oh no. Kim, mi dispiace. Voglio bene a papà, ma... Ma a volte sa essere un vero idiota. E' vero, la conosco. Ma ora... Mangiamo? Spero ti piaccia il hamon. Puoi girare un attimo qui? Mi è venuta un'idea. flawless, la modifierina alla iPad, ma a холод Dip ну qui r cosa ty... La prima parte di la Matte. Ciao!